C'è un modello penne per l'accoglienza dei migranti. È una rete che offre la possibilità di tenere uniti i nuclei familiari grazie agli appartamenti a disposizione nella CAS con l'alto della riserva del Lago di Penne. Oltre a quattro migranti arrivati tempo fa dal Bangladesh e ai 30 profughi arrivati dall'Ucraina, da qualche giorno il Centro di Educazione Ambientale accoglie anche alcune delle persone sbarcate a Ortona dalla nave Aitamari. Sindaco, esiste un modello penne per l'accoglienza? Sì, in effetti abbiamo creato un modello strutturale proprio per esercitare questo principio legato all'accoglienza. Abbiamo sia il CAS dei richiedenti asilo politico con i migranti, gli ultimi otto sono arrivati qualche giorno fa, come dato appunto dalla stampa, e poi abbiamo un CAS relativo agli ucraini. E questo sistema sta diventando utile perché si sta formando davvero una integrazione anche con la comunità all'interno della quale c'è la riserva regionale Lago di Penne. E ha parlato di riserva non solo della biodiversità ma anche sociale. Sì, il principio è proprio questo, che stiamo trasformando la riserva naturale, quindi per la difesa della biodiversità, anche in una riserva sociale. Oltre ai due CAS abbiamo anche un centro per i disabili fuori setting, quindi c'è davvero una nuova comunità all'interno della comunità. E questo è il vero modello penne che stiamo cercando anche di studiare con i nostri referenti della prefettura di Pescara. Non vengono solo ospitate ma si rendono anche utili alla comunità. Sì, infatti la peculiarità di questi nostri centri è proprio questa, nel senso che riusciamo a mettere insieme le famiglie e quindi per certi aspetti anche si autogestiscono per certe cose e quindi rimangono tutti insieme, non hanno il distacco dagli altri componenti della famiglia venuti in Italia e si rendono utili. Qui ci sono sei donne all'interno di questa struttura, le tre mamme con i due bimbi piccoli e un'altra minore, la nipote di una delle donne. Sono dello stesso nucleo familiare loro? Sono famiglie diverse che però sono arrivate insieme, quindi già si conoscevano e quindi alloggiano insieme nella stanza da sei. I bambini piccoli quanti anni hanno? Il più piccolo ha sette mesi, l'altro ha due anni. La situazione laggiù è delicata, non ci sono soldi, si soffre, è la ragione per la quale siamo partiti e no, non voglio tornare. Tu vuoi ritornare? No, non penso. Come ti vuoi il futuro? Il futuro è nelle mani di Dio. In ogni caso mi piacerebbe avere una vita bella che non ho mai avuto nel mio paese, in Guinea. E buona chance! Ok, grazie!